Il giorno dei miei 12 anni Non è quello che crediamo Lui scoprirà il loro segreto Tutte le famiglie felici si somigliano Ma le famiglie infelici lo sono ciascun amore suo Tratto dal best seller L'eleganza del riccio È possibile avere due qualità insieme Il riccio Dal 5 gennaio al cinema Consigliato da A